I saluti del video al giorno Domani, domani finiamo No, domani si finisce Ma sono i mezzi, i nodi Sì, sono i mezzi Però, prescrizione del prescrizione Però si discuterà anche domani Qualcosa è stata anche riempiata domani Insomma, la discussione ancora Diciamo, non è definita Stiamo andando avanti E sono L'avvocato della città metropolitana L'avvocato della città metropolitana, quindi alcuni nodi Diciamo, dal confronto Tra tutte le prescrizioni Sono emersi Le necessità Di coerenza tra una prescrizione e l'altra Si va alla ricerca della coerenza Perché uno dice una cosa, uno dice un'altra Bisogna trovare un punto di racconto Che consente poi l'effettiva Approvabilità dell'opera Le prescrizioni possono essere, siccome sono Di quattro soggetti Una, diciamo, da armonizzare All'altra, il lavoro è questo di armonizzazione Quindi si fa una verifica Il nome, scusi? Sono l'avvocato Sieli Sieli Grazie moltissimo Grazie